Bella ragazzi, sono Andragores, bentornati in questo nuovo episodio di Skyrim Siamo ritornati, meglio mettere via le armi Siamo arrivati qui a Rottgar Alto, se non sbaglio, insieme alla nostra guardia del colpo, Lydia E dobbiamo andare a parlare con questi qua Mi hai chiamato Sangue di Drago, che significa? Per prima cosa, mostraci se sei davvero il sangue di drago, facci assaporare la tua voce Ehm, che senso? Contro di lui? Non avere timore, il tuo urlo non ci recherà a danno Ah ok Porca troia Sangue di Drago, sei tu? Benvenuto a Rottgar Alto Io sono Maestro Argyr, parlo a nome dei Barbe Grigia Ora dimmi, Sangue di Drago, perché sei qui? Voglio scoprire cosa significa essere un Sangue di Drago Siamo qui per guidarti e aiutarti a scoprirlo Così come i Barbe Grigia hanno fatto con i Sangue di Drago, venuti prima di te E chi erano? Ce ne sono stati altri prima di te Da quando Akatos ha esteso per la prima volta questo dono ai mortali Ci sono stati molti Sangue di Drago Se però sei l'unico Sangue di Drago di quest'era, non lo sappiamo Fino ad ora abbiamo trovato solo te e tutto ciò che so Chi sei e cos'è questo posto? Noi siamo i Barbe Grigia, seguaci della via della voce Sei a Rottgar Alto, sul pendio della montagna sacra di Kinaret Qui entriamo in comunione con la voce del cielo E ci applichiamo per raggiungere l'equilibrio tra noi stessi e il mondo Che dettura Sono pronto a imparare Hai dimostrato di essere un Sangue di Drago Possiedi il dono dalla nascita Ma hai la disciplina e il carattere necessari A seguire la via che si apre davanti a te Lo scopriremo Anche senza preparazione hai già mosso i primi passi verso la proiezione della tua voce in un turum Un urlo Ora vediamo se hai la voglia e la capacità per imparare Quando usi un urlo parli nella lingua dei draghi Grazie al tuo Sangue di Drago possiedi un'abilità innata per apprendere le parole del potere Tutti gli urli sono composti da tre parole del potere Ogni volta che riesci a padroneggiare una parola Il tuo urlo diventa più potente Maestro Einhard Ora ti insegnerà Rho La seconda parola della forza irrisorabile Rho Nella lingua dei draghi significa equilibrio Combinalo con Fus Forza Per concentrare maggiormente il tuo tu Rho Rho Ok e quindi Mi devo avvicinare Ah ok Prendi una parola del potere è soltanto il primo passo Devi scoprire il suo significato attraverso un esercizio costante Per poterla usare in urlo Noi tutti abbiamo imparato gli urli in questo modo Tu in quanto Sangue di Drago Puoi assorbire direttamente la forza vitale e le conoscenze di un drago abbattuto Che robe Come parte della tua iniziazione Maestro Einhard Ti permetterà di attingere alla sua conoscenza del Rho E chi è qua? Vediamo in quanto tempo riesci a padroneggiare il tuo nuovo tool Prova la tua forza inesorabile per colpire i bersagli quando appaiono Premi Z per usare la più lungo Ti ne prendo più parole Verranno urlate Oh figata Cazzo Figata assurda Bene Di nuovo Il Lo sa Fus Rho Oh c'è qualcosa quello Notevole Il tuo tool è molto preciso Hai grandi potenzialità a Sangue di Drago La tua prossima prova si sfoggerà nel cortile Segui maestro Borri Borri? Chi è Borri? Maestro Borri? Facciamo la camminata epica Ah comunque ragazzi Adesso ho attivato un Attivato insomma Vediamo qua Ah proprio così Proprio Ah comunque ragazzi D'ora un poi Cercherò di Farlo sui 20 minuti video Perché Altrimenti Ce ne Pico sempre un 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 botto a caricarli Perché Perché gli ultimi più di Di mezz'ora Ora vedremo come riuscirai ad apprendere un nuovo urlo Quindi Maestro Borri ti insegnerà Vult Che significa Turbine Vult 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 Dove me l'hai fatta Acqua Devi sentire la parola dentro di te Prima di poterla proiettare in un tool Scatto Terminante Bene ora Quanto rapidamente Saprai padroneggiare Un nuovo urlo Ok devo mettere qua proprio Oh Perché fai quella faccia a te Ehm Che cazzo Ma che cazzo Che tu Seguimi Maestro Borri metterà alla prova il tuo scatto turbinante Ehm perché c'è questo segnalino Maestro Fulkar vuole dimostrare lo scatto turbinante Poi sarà il tuo momento Ok Maestro Borri Max Ulta Porca Boia vacca Usa il tuo scatto turbinante per superarlo Ehm 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 Ma che cazzo Anche Ma che cazzo Eh posso rifare No Passato Ho passato Che c'è Perché Perché non Eh Eh ma aspetta un attimo Ok Ehm Ehm Apri Porca Apri Ma che cazzo Ma che cazzo Senti Aspetta ma io mi sembra di avere un'abilità qua Urlo Forse ne so Scatto turbinante Perché non mi è stato detto di questa cosa Equipaggio Equipaggio Stammi accanto e prepara lo scatto turbinante Ui Chi è E E dirlo prima magari Boia La tua rapidità nell'apprendere un nuovo turun È Incredibile Avevo udito le storie che narrano delle capacità del sangue di Dragom Vederlo con i miei occhi Non so come Come lo faccio Succede Chi è che Gli dei ti hanno fatto questo dono per una ragione Sta a te scoprire come usarlo al meglio Ora Puoi affrontare la tua ultima prova Cioè Recupera il corno di Jürgen Winkoller Il nostro fondatore Winkall Jürgen E' l'antico tempio di Ostengraff Resta fedele alla via della voce E farai ritorno Un'altra Perché gli urli sono nel linguaggio dei draghi I draghi sono sempre stati in grado di usare l'urlo Il linguaggio è parte integrante del loro essere Non lo sapevo La lingua draconica non c'è differenza tra discutere e combattere Per i draghi urlare è naturale come mangiare o respirare Ah beh Nei tempi del mito Quando i mortali si trovarono in grande difficoltà La dea Kinaret donò loro la capacità di parlare come i draghi No lo voglio anche io questa abilità Siete solo in quattro? Cinque Il nostro superiore Parturnax vive da solo sulla cima della gola del mondo Quando la tua voce riuscirà a farti strada Saprai di poter parlare con lui Quando posso incontrare il tuo capo Come ha detto Saprai che è giunto il tuo momento Quando la tua voce saprà aprirti la strada che porta fino a lui Ok Cosa significa esserlo sangue di drago? I draghi possiedono l'abilità innata di apprendere e di proiettare la loro voce Possono inoltre assorbire il potere dei loro fratelli uccisi Pochi mortali nascono con tali abilità Che se siano un dono o una maledizione È materia su cui si discute da secoli Ciò che hai già appreso in pochi giorni Ha richiesto anni di studio ai più dotati fra noi Alcuni credono che il sangue di drago Sia inviato nel mondo dagli dei Quando ce n'è più bisogno Ne parleremo meglio più tardi Quando avrai la preparazione necessaria Ok Perché i draghi stanno tornando? Non c'è dubbio Non è un caso che il sangue di drago sia apparso ora Il tuo destino è senza dubbio legato al ritorno dei draghi Giora? Non c'è di concentrarti sul perfezionare la tua voce E presto la tua strada ti apparirà chiara Grazie Allora avrai la preparazione necessaria per ciò che ti attende Bene E il vento ti guidi Ehm Bene Ora ragazzi È arrivato il momento Porca puttana Se io mi Ma se io mi Butto da Da Qua Credete che mi faccia male? Io penso che Minimum Un graffetto me lo faccio Ora ragazzi Ehm Mission Ora Abbiamo diverse cose qui da Da fare ancora Ehm Hai voglia Dobbiamo recuperare questo ma Adesso Lo lasciamo un attimo in disparte Perché Ragazzi Finalmente È Arrivata l'ora Di Ritorna Che cazzo è Recupera Ehm No È il momento di ritornare Cioè Ragazzi avete presente La strada Io adesso sono qua E devo fare tutto il giro qua La strada La strada vicina è È da qui E fare tutto il giro qui Che avete preso Cioè Vabbè Vabbè Comunque È arrivata l'ora Di iniziare a fare Qualche magia Perché Questa serie Non per niente Si chiama Ehm Ciao Si chiama Ehm Mag Ehm Magic Warrior Quindi In inglese Vuol dire Guerriero magico Quindi Una sorta di Di mago Una specie di Ma Eh no Eh Devo capire adesso Qual è La scuola di magia Ehm Non so assolutamente qual è Casa Manto grigio Ehm No Scuola Eh Scuola di magia Ehm Scuola di magia S-sala dei morti No Ora Mi sa che Casa dei Dei clan Ehm Non mi interessa Voglio la cosa Che So che È qua Casa Casa Uff Mh Qui Eh Chi è Ehm Il cazzatore Ubriaco Mh Brizzerome Che Caravolo È Vergine Della guerra Eh No Eh Vorrei Che hai da guardare Guarda che non ho paura di te Anche se sono più giovane Ma che vuoi Eh La cosa di magia Dov'è Devo fare tutto Il giro Se ti servono provviste Va alla bottega di Bel Calle de derone È questo No non penso O si Ehm Che è qua Ma mi sembra anche giusto Senza nessuna protezione Mi piacerebbe Ad estrarmi In alchimia Credo di poterti insegnare Un paio di cosette Ehm Insegnante Esperto Costo 200 Ehm Sì Allena Allenati Ok basta così E così tu sei un guaritore Più o meno Non sono stata istruita alla scuola del recupero Ma qualcosa del genere Entro queste mura Ho tutto il necessario per preparare delle pozioni Per quasi tutte le malattie Se avessi un septin per ogni giuntura di pietra O ebetismo che ho curato dall'apertura del negozio Sarai sicuramente una donna ricca Bene Torna pure quando vuoi Se ti serve un rimedio Ehm Laboratorio dell'alchimia Come si fa? Puoi creare pozioni e veleni Combinendo due o più ingredienti Con un effetto in comune Sperimenta con i vari ingredienti Per prenderne gli effetti Effetti co Sì che è peggio di 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 matematica Chi è sta roba? Sconosciuto Sconosciuto Secondo me qua Ehm I funghi luminosi si servono Secondo me Musch- Mucchio di sali Grasso di troll Uova di gallina E uovo di ragno Ingrediente Ingrediente opzionale Che cazzo Dio Facciamo farina d'ossa Ehm Questo E Uovo di ragno Ehm Pozione di Effetto sconosciuto Ehm Proviamo a fare Questo Questo e questo No Effetto sconosciuto Effetto sconosciuto Ehm Tutti effetti sconosciuti? Che è qua? E mi serve più Più roba allora Ehm Effetto sconosciuto Ah ok Forse ho capito Niente Niente Ultima volta Niente F Annulla Interrompere Sì Perché Non c'è ancora niente Però vorrei anche Mh Imparare anche Delle Delle magie Perdonami Hai per caso I tremori Ehm No ok Guarda cosa stai Combinando Ah che vuoi? Fugo bianco Leggi Uh Un bel po' di roba Qua abbiamo Teschi Stivali Ah ragazzi Quante robe Veleno debole Grasso di troll Linfa Ok Siamo a 21 Minuti Ehm Direi che Che Stiamo per Finire Questo episodio Ora vorrei andare Un attimo Da Coso Che Che se Vi ricordate In Alcune In alcune Puntate fa Abbiamo Avuto Ehm Abbiamo Avuto Una specie Di Autorizzazione In cui possiamo Acquistare Delle case Qui Quindi adesso Vorrei Un attimo Parrellare Con Coso Così Ci può dire Un attimo Dove Possiamo Stabilirci Perché Ehm Cosa Non c'è Non c'è Nessuno Ah questo potrebbe Prendere qualcosa Quanti libri L'orso Crea quante libri Ma Boia vacca Rovine Rovine Ruba tutto Ruba tutto Ah qua però Siamo Siamo Nascosti Quanto vero Forse sopra Vediamo No Neanche di qua Ma Quanti libri C'è Un Un botto Oh c'è C'è una spada Ciotola Dormi Branda Perché fai Fai quei versi Si può sapere Ehm Non ti perdo Ma chi è qua Imperiale Imperiale Che Che Cos'è Una specie Di gioco Boh Vorrei acquistare Una casa Ma non so bene Dove Acquistarla Forse Niente Niente Ehm Ok Ehm Direi che Per questo Per questo episodio È tutto Ehm Vi ricordo di Iscriversi Al canale Se volete Rimaniere Aggiornati Sui Sui Prossimi Che carica Di questo gioco E E su altri giochi E mettere like Se Se vi è piaciuto L'episodio E ovviamente Di commentare Anche per Dare Tipo Consigli Che è Le malattie Le malattie Sono state Al Che Cazzo Io Non so Cosa S'è Successo Ok Ehm Quindi Noi Ci Risse Che È Quello Guarda Questa roba È forma Di Aquila Perché c'è un C'è un'aquila Qua Che è qua Che Ma che Cosa Usa Mola Ah qua Ma che Ma 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 La sfida Dell'armaiolo Prendilo Non si sa mai Che potrebbe Servire Scudo 60 60 Elmo Di ferro Io scusa Questo Quello Cos'è 20 E io Dovrei Avere Anch'io Il coso Di 20 Giusto Ma questo Lo posso Anche vendere No 23 Un po' Più Resistente Non è Di tanto È sempre Qualcosa Quindi Quindi Adesso Veramente Questo Episodio È tutto Vi Aspetto Per un Prossimo Video Bella